Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce. Oggi voglio raccontarti di quel motore che vive nell'ombra e che, silenziosamente, in perfetta sintonia con le caratteristiche di un motore digitale Roger Technology, svolge senza sosta il suo instancabile lavoro, le automazioni della serie R21. Ciao, sono Martina Florian e nel raccontarti della gamma di motori interrati voglio anche che tu sappia quanto questa tecnologia sia rivoluzionaria, in quanto sfrutta il campo magnetico permanente, lavorando in modalità superintensiva e garantendo consumi bassissimi. La passione per la meccanica, insieme alla nostra capacità come produttori, che negli anni è stata allenata e migliorata giorno dopo giorno, ci hanno portato ad avere oggi motori dotati di componenti meccanici ed ingranaggi, fabbricati con le migliori materie prime. Questi riduttori sono il frutto di una produzione automatizzata e robotizzata, sulla quale Roger Technology ha da sempre investito. Come puoi vedere, il motore interrato gode di una scocca in alluminio pressofuso rinforzato al titanio. Gli spessori sono maggiorati nelle aree sottoposte a maggiore stress e la bulloneria è tutta rigorosamente in acciaio inox. L'albero del riduttore è protetto da paraolio a doppio labbro, per garantire una perfetta protezione da agenti esterni, come acqua, polvere e fango. L'interrato è fornito con cavo di alimentazione resinato ed è dotato di guarnizioni tonde o ring, utilizzate nella chiusura di due superfici, rendendole ermetiche. Il motore interrato della serie R21 è provvisto anche della versione chiamata tandem o a doppio cuscinetto. L'albero motore principale sostiene lo sforzo maggiore ed è dotato quindi di un cuscinetto ulteriore per resistere allo stress di ante pesanti e lunghe, senza soffrire di rotture improvvise. L'ingranaggio principale di questo motore è completamente in ghisa sferoidale, insieme al quale puoi notare facilmente anche la parte in bronzo e la vite senza fine rullata. I suoi diametri sono sovradimensionati, con lo scopo di ottenere un ingranaggio molto robusto e resistente a sforzi e tensioni di manovra. Prima di proseguire con le altre caratteristiche del nostro motore interrato, voglio parlarti della possibilità di collegare i motori digitali Roger Technology attraverso un unico cavo a tre fili per una semplice e veloce installazione. La gamma degli interrati R21 movimenta cancelli battenti fino a 5 metri di lunghezza, utilizzabili per installazioni che vanno dal mondo residenziale a quello industriale, passando per il commerciale. Questa serie è dotata di un encoder digitale sensorless, ovvero senza sensore. Grazie ai magneti permanenti presenti all'interno del motore, riusciamo ad intercettare dei segnali, ottenendo una risoluzione di 48 impulsi giro. Immaginiamoci il motore digitale come una torta divisa in 48 fette. Ogni fetta manda degli impulsi attraverso i tre fili di alimentazione del motore. Questi segnali vengono poi interpretati da un potente algoritmo, che riesce a determinare la posizione del rotore e quindi dell'automazione stessa. Il motore interrato è per natura concentrato sulla movimentazione del cancello ed è inserito all'interno di una cassa di fondazione, sulla quale viene appoggiato il cancello stesso. Come puoi vedere, il sistema di sblocco separa il cancello dal sistema di leve del motore interrato. Il fine corsa nelle automazioni è un sistema di regolazione e controllo della corsa dell'automazione, impegnato a regolarne l'arresto. Quello all'interno della serie interrati R21 è meccanico e composto da questi due fermi regolabili. Un esagono regolabile in sei posizioni per il fine corsa di apertura e una vite anch'essa regolabile per il fine corsa di chiusura. Come ogni motore digitale realizzato da Roger Technology, tutti i movimenti del cancello risultano armoniosi e fluidi, regalando eleganza e forza nei movimenti, grazie ad una coppia motrice costante al massimo della sicurezza. Una sicurezza che lascia libero spazio di personalizzazione a velocità e gestione rallentamenti ed accelerazioni per essere sempre perfetta. Ti è capitato di chiedere alte prestazioni a un'automazione ed ottenere invece un surriscaldamento? I motori Roger Technology con tecnologia digitale sono molto lontani da questo scenario, poiché, indipendentemente dalla quantità di manovre richieste, anche a ciclo continuo, il motore rimane sempre freddo raggiungendo al massimo la temperatura ambiente. L'apertura standard di questa tipologia di motore è a 105 gradi, che con la leva LT300 può raggiungere l'apertura di 125 gradi. Con l'ausilio del gruppo pignone catena, disponibile con l'accessorio LT301, sono possibili rotazioni idealmente fino a 360 gradi. Questa soluzione è molto utile in quelle installazioni dove serve un cancello con un'apertura maggiore di 125 gradi, quando per esempio il vialetto interno dell'abitazione è curvo. È possibile avere due sistemi di sblocco differenti. Il tradizionale è composto da uno sblocco leva standard. L'altro è a leva protetto con cilindro a chiave di tipo europeo, per garantire maggiore sicurezza. In più, oltre al classico cavo di alimentazione di 2 metri, abbiamo pensato anche al cavo di 10 metri di lunghezza, il cui utilizzo evita di effettuare giunzioni là dove esso va posizionato in punti facilmente raggiungibili dall'acqua o dall'umidità, permettendo nelle installazioni standard di arrivare direttamente alla centrale di comando, anche se posizionata più lontano. Il posizionamento di un interrato obbliga l'utilizzo di casse di fondazione, disponibili in diverse varianti. Esse sono eguagliabili per misure e con diversi trattamenti. Esistono con casse e coperchio zincato a caldo, casse e coperchio zincato a freddo, con casse e coperchio in acciaio inox per una lunga durata, oppure ibrida con cassa zincata a caldo e coperchio in inox per la parte visibile. Attraverso il caricabatterie a pannelli solari powerbox, disponibile nella versione full solar o nella versione network assisted, queste automazioni possono sfruttare il potere energetico del sole, immagazzinando l'energia in un sistema di accumulo, per poi usarla quando necessario. La versione full solar dell'inverter consente di alimentare l'automazione direttamente dai pannelli solari, in totale assenza di rete. Mentre la versione network assisted, in caso di necessità, farà affidamento alla rete elettrica esterna. Il motore R21, ideale per ante fino a 3 metri, è disponibile anche nella sua versione high speed. Ti ricordo che la gamma high speed, tra i motori prodotti da Roger Technology, è veramente ricca e puoi trovarla sul nostro sito e sul nostro materiale informativo, contrassegnata dalla sigla HS e da questo simbolo rosso. Mettiamo le due velocità a confronto. Come potuto vedere in questo video, anche se nell'ombra di una cassa di fondazione, il nostro motore digitale interrato per cancelli battenti gode di tutta la varietà, tutta la delizia e tutta la bellezza dei movimenti tipici di un motore digitale Roger Technology. Grazie.